E nel nostro punto doc parliamo di un appuntamento di questo giovedì 2 ottobre, ritorna la rassegna dopo la pausa estiva, la rassegna il original version, il cinema in lingua originale, si inizia con Jersey Boys di Clint Eastwood, il film che racconta l'ascesa di Frankie Valli da Broadway fino alla sua scesa verso Broadway, da Broadway al cinema e la sua scesa nello show business. La colonna sonora è firmata dai Four Seasons e quindi è un gran bel film da vedere, sarà proiettato al Multicinema Galleria questo pomeriggio e questa sera due gli appuntamenti alle 18 alle 21. Continueremo ovviamente a parlare di eventi del Galleria e anche della rassegna di original version anche nelle prossime settimane, anche perché è un'occasione unica per vedere i film in lingua originale con ovviamente i sottotitoli in italiano. Quindi continua questa gran bella rassegna e ne parleremo anche nelle prossime settimane. Mi sembra di avervi detto tutto, noi ci risentiamo tra pochissimo con gli appuntamenti della settimana.